Assolutamente sì, sono contentissimo di essere tornato, come hai detto voi, dopo tanti anni e aspettavo questo momento da un po' e oggi è arrivato e sono molto felice. No, no, ovviamente devo acquisire condizione, oggi ho giocato uno spezzone di partita che è quello che mi manca fondamentalmente e secondo me piano piano acquisendo sempre di più la condizione è normale che poi vengono fuori le giocate e ovviamente la qualità, sono ripeto contentissimo e ovviamente anche del risultato che abbiamo vinto la partita. Allora, ti ringrazio intanto del bentornato e per quanto riguarda il gruppo, quello era un gruppo diverso. Qua comunque ci sono tantissimi giovani, i giovani che c'erano prima come me sono diventati vecchietti quindi adesso devono dare una mano ai ragazzi più giovani ma posso garantirvi che veramente anche questo è un gruppo molto compatto, molto unito, fatto di bravi ragazzi che si vogliono bene e penso lo si veda in campo, lo si veda dopo le vittorie finali e penso che questo sia importante. Però fare un paragone col gruppo vecchio secondo me non va bene. Sì, la squadra del mister Auteri mi ricordo che comunque inizialmente abbiamo fatto un po' di fatica anche per i carichi di lavoro che comunque lui utilizzava, infatti le squadre sue venivano fuori sempre dopo e ovviamente anche penso in classifica, ora non ricordo più o meno come eravamo a quel tempo però credo sicuramente che oggi abbiamo più punti, se non mi sbaglio siamo secondi o comunque primi. Quindi ovviamente stiamo messi meglio in classifica, certo. Sì, oggi secondo me abbiamo fatto molti passi in avanti anche a livello conclusivo perché le scorse partite concludevamo poco, magari avevamo un po' di possesso palla però un pochino sterile. Oggi secondo me abbiamo fatto una grande partita con dei passi in avanti, abbiamo calciato molte volte in porta e l'unico rammarico sì è quello di non averla chiusa prima perché a volte poi comunque diventa complicato perché basta un episodio per gli avversari e magari riapre una partita che secondo me oggi loro veramente hanno fatto poco e niente. Merito sicuramente del mister e di come ci ha messo in campo e soprattutto dei ragazzi.